Eccoci tornati di nuovo in studio sempre con il dottor Albanese ed il dottor Polinelli per parlare delle ferite difficili e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Iniziamo da lei dottor Albanese, abbiamo Alba di Macerata che chiede una puntura di zanzara può essere la causa scatenante per una ferita difficile e se sì come mai? Sì, in linea del massimo sì, ma non abbiamo paura a dire che ogni puntura di zanzara diventa una ferita difficile. Intanto bisogna vedere dove punge la zanzara. Se punge in corrispondenza di una varice, quelle vene prominenti della gamba, può, perché infatti ci sono delle parassili, flebotropi, si chiamano proprio in questo caso così, può scatenare un'intensa reazione locale. Se aggiungiamo a questa intensa reazione locale, cioè quel famoso ponfo, quell'arrossamento, aggiungiamo una infiammazione delle pareti dell'avena dove c'è una varice e se in più aggiungiamo una patologia di base come può essere il diabete, ecco che dal mix di tutte queste varie caratteristiche si può sviluppare una ferita difficile. Quindi non è così facile sviluppare una ferita difficile. Ecco, quindi non spaventiamo le persone. Non spaventiamoci perché comunque sia ci sono tutto l'insieme di cofattori, come viene detto, che concorrono allo sviluppo di queste lesioni. Certo, bene. Poi abbiamo Giorgio di Ascoli Piceno che chiede qual è il migliore trattamento per le ulcere cutanee venose? E intanto, diciamo, correggere la causa che ha scatenato l'ulcera venosa. Esistono dei presidi medici, chiaramente esistono dei farmaci, esiste un presidio fondamentale che non ci fa piacere sentire, ma sono le calze elastiche perché se stesse forniscono la nostra cintura di sicurezza e in ultima analisi, quando è necessario, l'intervento chirurgico di correzione della patologia venosa. Nella nostra realtà, grazie proprio a queste nuove tecnologie, abbiamo la possibilità di seguire degli interventi chirurgici che si chiamano radiofrequenze, cioè bruciamo la vena dall'interno e che per il paziente comportano un minimo stress chirurgico. Quindi anche in presenza di una ulcera presente attiva possiamo eseguire l'intervento chirurgico di correzione e questo è un grosso passo in avanti. Bene, dottor Paolinelli, abbiamo Ilario di Monte San Vito che dice ha una ferita da decubito al piede in seguito ad un lungo periodo in rianimazione e che non guarisce mai. C'è un tempo approssimativo di guarigione o dipende da caso a caso? Chiede e inoltre chiede da che cosa dipende? Allora possiamo rispondere a Ilario che purtroppo questa è una domanda senza una risposta unica nel senso che dipende la situazione generale di Ilario perché come si diceva prima la ferita difficile al piede è un po' la punta di un iceberg. La parte sommersa dell'iceberg sono le varie problematiche che il soggetto può presentare, alcune delle quali abbiamo già discusso, come per esempio il diabete, come per esempio le arteriopatie, come per esempio le patologie immunologiche che oggi sono sempre più frequentemente diagnosticate. Dunque in realtà non si può dare un tempo in numeri su quanto potrà durare questa lesione, dipende da una serie di fattori. Possiamo però tranquillizzare Ilario dicendo che ad oggi nella nostra regione abbiamo in uso i sistemi più innovativi e il personale addestrato a questo, cosa che purtroppo non è in tutte le regioni della nostra nazione in ugual modo. Dunque sicuramente facendosi gestire dal suo medico di medicina generale o dal servizio di ferite difficili più vicino a lui avrà il trattamento migliore e i tempi minori. Bene, poi abbiamo Giulio Di Pesaro che chiede l'iperglicemia è causa della comparsa di ferite che non guariscono in breve tempo? Purtroppo sì, l'iperglicemia induce tutta una serie di alterazioni per lo più delle zone distali del nostro corpo a seguito di vari gradi di danno di tipo vascolare e di tipo neuropatico. Come in parte si è già detto il piede nel soggetto diabetico è quello che si chiama un piede di cristallo, cioè un piede delicatissimo nella gestione. Una ferita anche banale, acuta, può diventare poi la porta d'ingresso di batteri e innescare un processo flogistico importante che può portare anche all'amputazione. Dunque è fondamentale nel diabetico gestire la malattia di base che è la causa di questa fragilità fondamentalmente anche dei tessuti attraverso i centri antidiabetici che abbiamo anche qui in rete, come la rete ulnologica, distribuiti in tutta la nostra regione. Il centro antidiabetico di competenza darà le informazioni migliori al nostro amico per gestire al meglio la sua patologia di base e dunque diminuire al minimo il rischio di una ferita difficile. Bene, poi abbiamo Luigi Di Fermo che chiede quali sono gli accorgimenti necessari per non incorrere in questo problema per le persone in stato di semi-infermità e quindi costrette a letto o in carrozzina? Allora ci sono vari sistemi. La cosa più importante che non dobbiamo dimenticare è che una lesione da decubito come sinonimo una lesione da pressione è una lesione che può insorgere anche in poche ore. Poche ore fermi in una posizione obbligata può facilitare l'insorgenza di questo tipo di danno cutaneo. Dunque la cosa principale è la prevenzione e in questo caso nel paziente obbligato in certe posizioni obbligate è fondamentale cercare, quando possibile ovviamente, sia nella sedia sia a letto, di mobilizzare anche limitatamente il paziente, cioè eseguire un ciclo di mobilizzazione come è previsto nelle strutture sanitarie e come dovrebbe esserlo anche a casa. Non ci dobbiamo dimenticare che però ci sono anche dei presidi come per esempio dei materassi che si possono mettere al di sopra del proprio materasso di casa o dei cuscini che si possono mettere nelle sedie a rotelle che possono in qualche modo con delle tecnologie di vario tipo diminuire la pressione di certi punti in questi soggetti che sono obbligati nella loro posizione. Bene. Dottor Albanese, abbiamo Gino di Montegranaro che chiede chi sono le persone predisposte ad avere questo tipo di problema? Nel senso... Di ferite difficili? Di ferite, tutto quello che ci siamo detti prima. Sì, ecco se vogliamo un attimo rispondere brevemente al nostro telespettatore. Sì, tutte quelle persone che possono a più livelli avere dei problemi di ordine generale quindi patologie croniche generali o comunque persone esposte a un determinato tipo di traumatismi continui in zone particolarmente non coperte, diciamo nella situazione locale ma fondamentalmente se parliamo delle lesioni croniche sono tutti quei fattori di rischio che abbiamo prima citato. Bene. Poi abbiamo Emanuele Di Fano che chiede che ruolo gioca l'abbassamento di difese immunitarie nell'aggravarsi della ferita? È fondamentale perché noi non riusciamo a dare una risposta perché non è la ferita in quanto tale, è l'infezione della ferita cioè la presenza, a vario titolo, di germi che possono essere batteri, virus o funghi che il nostro sistema immunitario normalmente riesce ad arginare riesce ad arginare perché il nostro sistema competente, una persona sana, tendenzialmente sana ha un sistema immunitario che risponde a qualsiasi attacco ma quando calano queste difese, questi batteri che non vengono più riconosciuti e contrastati hanno libero accesso al nostro sistema venoso prima, arterioso e la colonizzazione, è la sovrainfezione batterica che peggiora la condizione locale. Certo, bene. Anna Di Giesi chiede è una patologia che riguarda solo la terza età? Non proprio. Ha un picco la terza età. Sopra i 65 anni ha un 20% di incidenza delle ferite difficili però come dicevo anche le prime, data allarmante, 30.000 bambini in Italia sono affetti da queste ferite difficili intendiamoci però, questi 30.000 bambini bisogna leggere il dato, è un dato brutto parliamo, si va dalla infezione, dalla sbocciatura del ginocchio che si sovrinfetta a casi più gravi di patologie congenitogenetiche che possono essere stesse causa di un abbassamento delle difese immunitarie anche il diabete stesso in età infantile è ben più pericoloso che in età adulta. Certo, bene dottore. Poi dottor Paulinelli abbiamo Mirella di Macerata che chiede perché è affetto da diabete e da ferite che non guariscono? È meglio rivolgersi a centri specializzati o qualsiasi struttura ha le competenze necessarie? Sì, sento che in queste domande che fanno i tele spettatori il diabete incorre spesso e questo è giusto che sia così perché in realtà il paziente diabetico è più fragile da questo punto di vista è più fragile dal punto di vista cutaneo sia nel piede ma anche nel resto dell'acuta nel resto del tegumento. Per cui essendo un soggetto in qualche modo predisposto e fragile a questo tipo di problematica è un soggetto che deve essere seguito per la sua patologia di base dalla rete dei centri antidiabetici ma anche dalla rete buldologica perché una qualsiasi ferita anche iniziata in maniera banale può nel diabetico più frequentemente che la persona non diabetica sfociare in una ferita difficile e questo mi dà l'occasione anche di agganciarmi a un'altra innovazione che abbiamo avuto già da alcuni anni in questo settore ovvero l'utilizzo di sostanze antisettiche a largo spettro e metalli come per esempio l'argento nelle sue varie formulazioni che si è scoperto ormai da tempo essere un presidio altamente efficaci nelle ferite infette dunque oggi esistono delle medicazioni cosiddette avanzate a base di argento che hanno uno spettro di azione per le ferite del diabetico ma per tutte le ferite difficili con una efficacia spesso mai avuta fino adesso neanche con gli antibiotici più potenti concludo questa domanda dicendo che ad oggi l'argento non ha avuto resistenze per cui anche il grave problema delle resistenze alle terapie antibiotiche che oggi si hanno con medicazioni avanzate a base di argento non esiste dunque insomma è la cosa importante che si sono fatti notevoli passi avanti ecco per curare queste ferite difficili probabilmente è una tra le discipline mediche e sanitarie in generale che ha avuto nell'ultimo ventennio il più grande indice di evoluzione sia da un punto di vista di tecnologie di dispositivi ma anche di concetti perché se ripenso anch'io quando uscì dalla specialità la ferita difficile c'era e chiaramente una quindicina di anni fa ma i mezzi a nostra disposizione anche specialistici erano pochi oggi invece grazie anche a questa innovazione industriale e concettuale abbiamo a disposizione veramente armi molto potenti bene dottor Albanese abbiamo Maria Di Macerata che dice mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico all'anca mi si è formata una ferita da decubito che cosa mi consiglia? tanto di afferire al centro al chirurgo che l'ha operato perché solo lui conosce esattamente le reali condizioni della lesione prima e della lesione dopo è chiaro che nel mettere bocca in specialistiche che meritano un controllo vis-à-vis è sempre difficile però in linea del massimo è buona abitudine ritornare dal chirurgo che l'ha operata perché è l'unico che riesce in questa fase a capire qual è la problematica individuale poi dopo è chiaro che ci sono altri step da fare se questo non è più possibile certo poi abbiamo Mario Di Giesi che dice a seguito di un incidente ho dovuto subire diversi interventi ed ora in una zona dove è stata installata una placca metallica ho un problema con una ferita che tende a non guarire e chiede che cosa mi consiglia di fare? è sempre il discorso penso che sovrapponibile a quell'altro anche perché lì dove posso immaginare dove sia stata applicata una placca metallica facilmente può essere che essa stessa poiché vengono messe in delle zone in cui non c'è un gran pannicolo di sottocute a tale da fare spessore possa avere decubitate essa stessa anche qui se fosse essa la genesi la placca è la stessa la causa di questa ferita che non guarisce è necessario rimuovere la causa che l'ha scatenata per cui è sempre bene che lui ritorni al medico ottopedico che l'ha operato noi siamo giunti al termine della trasmissione ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti il dottor Francesco Albanese e il dottor Massimiliano Paolinelli noi vi aspettiamo la prossima puntata sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11 il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11 arrivederci e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11